Incidente sul lavoro nel pomeriggio di sabato 12 marzo, poco prima delle 16.30, in un'azienda situata in via Xinternate a Salassa. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, l'ambulanza della croce rossa di Rivarolo, l'elio di soccorso del 118 e i carabinieri di Castellamonte. Un operaio è rimasto con la mano schiacciata sotto la pressa alla quale stava lavorando, situata all'interno di un'officina che tratta materie plastiche. L'operaio subito a soccorso è stato liberato dal macchinario e dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato all'elio di soccorso, che l'ha portato all'ospedale CTO di Torino. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incidente.